Resta il nodo della profondità dei fondali del porto di Pescara dopo il sopralluogo effettuato ieri dalla compagnia di navigazione Iadrolina insieme a Capitaneria dei Porto, Comune, Provincia e Prefettura di Pescara e Regione Abruzzo. Proprio quest'ultima si è assunta l'impegno di reperire le risorse necessarie a ripristinare un adeguato pescaggio con l'obiettivo di riattivare nel più breve tempo possibile il collegamento marittimo da Pescara alla Croazia. Nel corso dell'incontro l'amministratore delegato della Iadrolina Alan Kianach ha affermato che c'è tutta la volontà della compagnia di sedersi e trovare le linee comune per procedere, sottolineando l'importanza della continuità e della stabilità del servizio. Da parte delle istituzioni italiane c'è la volontà di accelerare quanto più possibile l'iter per consentire l'accesso al porto alla Iadrolina. La verifica a livello dell'amministratore delegato di Iadrolina testimonia l'interesse che loro hanno a investire qui in Abruzzo per i collegamenti Abruzzo-Contea-Spalatino-Dalmata-Abruzzo-Croazia. Faremo l'impossibile nel rispetto delle regole facendo in modo che le regole possano anche aderire alle esigenze di questo investimento. Noi dobbiamo arrivare a concepire nuove norme che semplifichino la manutenzione portuale. Assomiglia ad una fatica o di Penelope o di Sisifo la manutenzione portuale. Ho avuto delega dalla conferenza Stato-Regione a concepire una nuova norma sulla manutenzione portuale.